Dati USA positivi e sopra le attese degli analisti spingono al rialzo le piazze finanziarie europee che chiudono tutte positive. Dopo una situazione iniziata in termini più cauti, Milano è tra le migliori, il Fuzzimi Barchivi ha le contrattazioni avanzando dell'1,33%, con World Duty Free e Autogrill in testa al paniere. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi chiude in calo a 147,5 punti rispetto ai 150 dell'avvio. Seduta positiva per il comparto del lusso a piazza affari che ha chiuso gli scambi in rialzo dell'1,33%. Yox è il titolo migliore e avanza del 3,14 a 19,04 euro. Tots arriva poco dopo con un guadagno del 2,75%. Il recupero principale è quello del titolo di Luxottica che, appesantito la settimana scorsa dalle indiscrezioni sull'uscita del CEO Andrea Guerra, è tornato oggetto di acquisti segnando più 1,25% a 39,7 euro.